Ha fatto blink, se ha fatto blink vuol dire che sta funzionando, oh benissimo, perfetto, come va? Ah vabbè dai ho capito, non perdiamo tempo. Prendiamo questo simpatico libro, volume 2, che è mai visto un libro di storia così incartato, veramente un macello, si capisce poco e niente. Allora andiamo tutti allegramente a pagina 381 e vediamo il nuovo ruolo del Regno di Sardegna. Semplicemente vi dice che il Regno di Sardegna diventa il punto di riferimento dei patrioti che trovano rifugio da quelle parti lì. Perché? Perché in Piemonte, o meglio nel Regno di Sardegna, il Regno di Sardegna è l'unico Stato italiano che ha una costituzione, cioè lo Statuto Albertino, firmato da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 e rimasto appunto in vigore. Quindi questa diventa meta privilegiata di un sacco di patrioti che cercano rifugio da quelle parti, tra i 20 e i 30 mila rifugiati. E, profe, devo studiarlo questo? No. Gli dai un'occhiata, paragrafo 1, pagina 381. Giriamo pagina, vediamo la cosa molto più importante. Un nuovo protagonista, Cavour. Allora, protagonisti del nuovo... furono il re e Camillo Benso, conto di Cavour, che divenne primo ministro nel 52, di famiglia aristocratica, educazione europea, convinzione che le libertà economiche fossero una condizione indispensabile per il progresso materiale e civile di uno Stato moderno, sostenitore di un liberalismo moderato ma innovatore. Obiettivo politico era di governare mettendo fuori gioco le ali estreme nemiche della monarchia costituzionale, i clericali fedeli al Papa e ostili a libertà individuali, e i repubblicani che volevano trasformazioni con la rivoluzione e con l'appello al popolo. Vabbè, con Nubio non ci interessa più di tanto e produce, promuove varie riforme. Allora, che cosa non hanno messo subito? Uno dei suoi motti, il motto preferito, era libera Chiesa in libero Stato. Cioè, allora, lui propone praticamente la separazione, scrivete, scrivete, la separazione netta tra i compiti della Chiesa rispetto ai compiti dello Stato. Una cosa è quello che deve fare lo Stato, una cosa è quello che deve fare la Chiesa. Quindi, ben chiaro, non ci deve essere interferenze dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa, ovviamente. Cioè, potere spirituale, potere temporale, separati. Ok? Quindi, i risultati del suo governo furono rilevanti. Il Regno di Sardegna, avete scritto, vero? Adottò una politica economica liberista che ridusse le tariffe doganali interne. Aggiungete quelle interne, ok? Con vantaggio, soprattutto per il settore agricolo. Strinse, accordi commerciali con le principali nazioni europee, fece ampliare e modernare il porto di Genova, che divenne il principale punto di transito, eccetera. Al tempo stesso, un deciso intervento in economia dello Stato, usando soldi pubblici per costruire strade, ferrovie, canali di irrigazione. Irrigazione per sostenere l'industria siderurgica e, aggiungete, coltivazione del riso. I canali, poi, non servivano solo per l'irrigazione, ma anche per il trasporto. Quindi, com'è che era? Irrigazione e trasporto. Perché irrigazione? Per sostenere l'industria siderurgica, perché abbiamo visto, parlando della rivoluzione industriale, l'acciaio viene prodotto tramite il carbone, e io ho bisogno di carbone e ferro, ok? In tempi rapidi, e quindi per il loro trasporto. E poi, l'acqua è indispensabile per raffreddare, ovviamente, l'acciaio, che è stato appena, diciamo, fuso. Questi interventi richiedevano denaro, così Cavour ottenne finanziamenti da banche italiane ed europee, abolendo privilegi del clero, come ad esempio l'esenzione dal pagamento delle tasse, e prese in Camerò, non lui personalmente, ma lo Stato, molti beni di proprietà della Chiesa Cattolica, che la prende molto male, ovviamente dice che è stata una rapina. Mi avete rubato questo! Mi avete rubato quello! Le riforme fecero del regno di Sardegna uno Stato moderno, a livello delle più avanzate nazioni europee. Vero, verissimo. Ferrovie, tantissime ferrovie. Vi ricordo che la prima in Italia era la Napoli Portici, cioè da Napoli a Napoli, il quartiere di Napoli, ma era, diciamo, fiché altro uno sfizio. La prima ferrovia decente in Italia, appunto, le prime ferrovie furono appunto il regno di Sardegna. E Torino divenne il punto di riferimento per tutti i patrioti. In questo modo, scrivete, in questo modo aumentò la ricchezza del regno di Sardegna e quindi il gettito fiscale, cioè le tasse pagate, gettito fiscale, che fu utilizzato, fu senza accento. Senza accento, quante volte devo dirvelo! Allora, dove l'ho rimasto? Che fu, il denaro che fu utilizzato per creare un esercito piccolo, ma moderno ed efficiente. Bene, paragrafo 3, le posizioni di Mazzini e dei Democratici. Non erano molto d'accordo, questi volevano in pratica ancora la Repubblica e, insomma, non funziona. Per loro così non va bene. Tagliate! I Democratici in azione. Il partito d'azione tra il 53 e il 56 organizzò moti insurrezionali in Lombardia, Lunigiano e Valtellina, che però fallirono tutti. E allora abbiamo, scrivetelo, Enrico Tazzoli, giustiziato a Belfiore, provincia di Mantua, appunto per questi moti, nel dicembre del 52, e poi il bresciano Tito Speri, anche lui giustiziato a Belfiore, nel marzo del 53. Fatto, Tazzoli e Speri. Nel 57, Carlo Pisacane, con l'aiuto e sostegno di Mazzini, tentò una spedizione nel Napoletano, proponendosi di scatenare un'insurrezione popolare e abbattere il Regno di Borbone. Quando sbarcò a Sapri, e qui c'è la famosa Spigolatrice di Sapri, quindi fate un asterisco, fate appunto poesia, Spigolatrice di Sapri, erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Questa è la poesia. Presso Salerno non trovò a tenderlo i rivoluzionari napoletani, ma bande armate di contadini, che, convinti dal clero locale che i patrioti erano pericolosi briganti, li massacrarono tutti e andò a finire male come cavolo si chiama ai fratelli Bandiera in Calabria. Ok, la nascita della società nazionale italiana dice semplicemente che si organizzano per combattere, per lottare, per l'indipendenza. Però, praticamente, per l'indipendenza d'Italia, ma facendo riferimento alla monarchia Savauda. Tra questi che aderiscono è appunto Garibaldi. Ciò detto, tagliate. Girate pagina, politica estera di Cavour. Cavour era favorevole a un processo di unificazione nazionale, guidato dal Regno di Sardegna. Riteneva però indispensabile che il Piemonte, oltre a modernizzarsi sul piano economico e giuridico, si alleasse con gli stati europei, ostili all'Austria, e la combattesse con il loro appoggio. L'occasione fu offerta a Cavour dalla guerra in Crimea, che opponeva ottomani i francesi, inglesi e i russi. Il Piemonte non era direttamente coinvolto in quel conflitto, tuttavia inviò un incontingente di 10.000 bersaglieri, un nuovo corpo armato appena costituito dal generale Lamarmora. Bersaglieri, appunto quelli che vanno a combattere di corsa, suonando la fanfara, no? Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda, che comanda i bersaglieri. Peccato che Garibaldi non abbia mai, mai, mai comandato i bersaglieri. Non so perché, allora dicono, ci sia questa canzoncina, non lo so, ma non lo so. Allora, a combattere a fianco dei francesi e gli inglesi. Questa mossa permise a Garibaldi sedere tra i vincitori nella conferenza di pace di Parigi del 1956, dove richiamò l'attenzione dei maggiori stati d'Europa sul problema italiano. Vi ricordo che l'Austria non voleva. No, non potete! E quegli altri vi dicono, ma scusa, questi qua hanno combattuto, hanno vinto insieme a noi, è giusto. Per di più non chiedono niente, non chiedono niente per questa vittoria. Potrebbero chiedere, chissà, non chiedono niente, chiedono solo di parlare. Eh, allora facciamoli parlare. L'operazione ebbe successo. Il Piemonte trovò in Napo III un alleato interessato a indebolire l'Austria. E noi qua, cosa facciamo? Noi qua segniamo pagina 356, vedi pagina 356. E torniamo indietro di 30 pagine, eh, grazie a questo libro, che proprio non ho capito come cavolo è stato strutturato. Andiamo a pagina 356, e vediamo l'impero ottomani. L'impero ottomano è la questione d'Oriente. Nella quarta dell'Europa, bla bla bla, centro orientale e balcanica, si aprì la cosiddetta questione d'Oriente, il tacchino. Cioè la debolezza dell'impero ottomano, che dominava su slavi, rumeni, albanesi, greci, turchi, armeni, curdi, arabi. La decadenza, dovuta a retratezza economica, politica e militare, favorì le spinte all'indipendenza delle varie regioni. Tali spinte erano appoggiate dagli stati europei, che avevano interessi. Ah, io voglio la coscia, no, a me l'ala, io voglio il petto del tacchino. Allora, l'impero austro-ungarico, indebolito dalla formazione del regno d'Italia, dell'impero generale, cercava compensi nell'isola balcanica. È vero. Ma perché lo dice adesso? Cioè, nella pagina 356 parla di un regno d'Italia che ancora non abbiamo visto creato. È troppo casinista sto libro, ma non ha senso. Però è vero che il regno d'Austria cercava compensazioni nei Balcani. L'impero russo mirava il controllo del Mar Nero e degli stretti del Bosfero e dei Dardanelli per lo sbocco nel Mediterraneo. È una cosa che vi ho sempre raccontato. La Russia dello Zar, l'Unione Sovietica e la Russia di oggi ha sempre questo obiettivo. Come protettore anche dei popoli slavi. Anche la Gran Bretagna era coinvolta. Non poteva accettare la Russia e il Mediterraneo e vi erano motivi di tensione in Medio Oriente e Asia Centrale. È vero per gli Stan e l'Afghanistan. La Gran Bretagna ha interessi commerciali, potete scrivere, ok? Interessi commerciali come la Francia. Ma questa cosa l'avevamo già vista anche Francia. Perfetto. Un episodio chiave della politica europea fu la guerra di Crimea. Avete visto tutti dov'è. Questo libro non ve lo fa vedere. Nel 1953 la Russia invase i principati rumeni della Moldavia e Valacchia, soggetti all'impero ottomano. La Gran Bretagna, che temeva l'espansione della Russia nei Balcani, dovete sapere, si schierò a fianco dei turchi e coinvolse nella guerra alla Francia. Nel 1955 intervenne anche il regno di Sardegna, desideroso di acquistare visibilità al fianco delle potenze europee. La coalizione antirussa inviò nel Mar Nero un corpo di spedizione che pose l'assedio alla fortezza russa di Sebastopoli. fu molto sanguinosa, si concluse nel 1956, quando l'Austria, bla bla, non ci interessa, al congresso di Parigi, sancì l'integrità dell'impero ottomano e chiuse gli stretti del Bosporo, sottolineata, interessante, e dei Dardanelli alle navi da guerra, per impedire la presenza militare russa nel Mediterraneo. Cioè, nessuno può attraversare quegli stretti. È ovvio che questa è una fregatura, soprattutto per la Russia, perché la Russia ha interesse andare in Mediterraneo, ma quelli del Mediterraneo non hanno interesse andare in Russia. Allora, qui ci sono degli appuntini da aggiungere. Allora, i bersaglieri, che vi ho già detto, ok, francesi e inglesi erano nel caos organizzativo più totale, mentre i bersaglieri piemontesi fecero una bellissima figura, e poi aggiungete, famosissima, è la carica dei 600 della brigata di cavalleria leggera inglese, la carica dei 600 di Balaclava, di cui vi ho fatto vedere lo spezzone, vi ricordate? Appunto, assaltano i cannoni russi andandogli in bocca, praticamente, e attraversando questa cavolo di pallata circondata dai russi, fondamentalmente. Attaccate, attaccate! Dove? Attaccare cosa? Attaccare dove? Non si discutono gli ordini, attaccare! Ale, attacchiamo! Ale! Grande, come si può dire, dimostrazione di coraggio e di senso dell'onore. Interessante la fotografia a pagina 357, perché la guerra di Crimea, come dice giustamente la di Tascalia, fu la prima a essere testimoniata dalle fotografie. Andiamo a pagina 395, chiaro, no? Adesso facciamo un altro bel saltone in avanti. 395, la seconda guerra di indipendenza. Gli accordi tra Cavour e Napo III. Allora, in particolare la partecipazione aveva aumentato l'interesse di Napo III per la causa italiana. Sembrava che andasse a finire tutto a schifio quando Felice Orsini, ex-Mazziniano, fece un attentato, cerco di assassinare Napo III. Causò la morte di otto persone. L'attentato, il processo contro Orsini, perché ovviamente dice, ah, vedi gli italiani, che non bisogna fidarsi degli italiani. Invece Cavour è stato bravo e dice, vedi, è importante, bisogna risolvere il problema italiano. E quindi, usando anche diplomazia femminile, convinse praticamente Napo III a stringere gli accordi segreti di Plombier. Segreti, segreti, segreti. Impegnavano la Francia a entrare in guerra a fianco del Piemonte se fosse stato attaccato dall'Austria. Stabilivano in caso di vittoria l'Italia in quattro regni sotto la presidenza del Papa. L'Alta Italia, con Lombardia, Romagna e Piemonte, è in mano ai, come cavolo si chiama, ai Savoia. E anche la Toscana. L'Emilia, dunque, poi il... Non dice altro, aspetta, la Romagna e Savoia. Vabbè, poi Piemonte, no, Piemonte sto dicendo la Toscana, il Gran Ducato di Toscana, stato della Chiesa e il Regno di Napoli. Questa era l'idea. In cambio, inizia Savoia alla Francia. Cavour cominciò a provocare l'Austria affinché dichiarasse guerra ramassando truppe lungo il confine, facendo le esercitazioni. L'Austria cade nella provocazione e dichiarò guerra. Cominciava, appunto, la seconda guerra dell'indipendenza. Migliaia di volontari, arriva anche Garibaldi, che conquista Varese e Como, e se non sbaglio arriva anche fino a Brescia. Avete girato pagina, le truppe franco-piemontesi sconfissero quelle austriache. Prima Magenta, in realtà solo i francesi c'erano, e poi il 24 giugno Solferino e San Martino. Allora, cosa c'è da aggiungere? che a Solferino combatterono i francesi, che sconfissero l'ala sinistra austriaca. Questo fattore, più l'ostinazione dei piemontesi a San Martino e l'arrivo di un temporale estivo, tutti questi tre fattori, diciamo, piegarono la resistenza austriaca che ammise la sconfitta. Funziona? Scritto? Bravi. La Lombardia era stata strappata agli austriaci. Napo III pose termine alla guerra, senza avvertire l'alleato, l'armistizio di Villafranca, in base al quale l'Austria cedeva la Lombardia alla Francia, che a sua volta la donava al Regno di Sardegna. Notate bene, l'Austria non ammetterà mai di essere sconfitta dagli italiani, e quindi utilizza questi mezzucci per non ammettere la sconfitta. Cavour, indignato per il tradimento, si dimise, vabbè, ma pazienza, perché tanto poi torna il governo. Le ragioni che avevano spinto Napoleone a chiudere la guerra erano la vittoria, che era costata migliaia di morti, le truppe francesi avevano una bella epidemia, e poi la Prussia minacciava di allearsi con l'Austria, cioè rischiava di scoppiare una guerra europea. Il Papa poi protestava perché appoggiava il Piemonte, che era suo nemico. Che cosa manca qui? Oltre a, come è andata la battaglia di San Martino, manca il riferimento a Henri Dunant, e... Ah no, sotto, guarda, guarda, guarda che bello, c'è scritto sotto nella didascalia, la battaglia sul ferino, il ginevrino Jean-Henri Dunant, un volontario che si occupò dei feriti, fu così segnato dall'esperienza e decise di fondare la Croce Rossa Internazionale, che ha come museo, il suo museo di fondazione a Castiglione dell'Estiviere. I mille e l'unità d'Italia. Abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito, abbiamo finito, abbiamo finito, abbiamo finito. Allora, l'insurrezione al centro-nord, il processo di unificazione non venne frenato dalle scelte di Napo. In Toscana, Parma, Modena e in Romagna, dopo la battaglia di Magenta, il popolo era insorto, cacciando i governanti. Si erano formati i governi provvisori, controllati da, eccetera, eccetera, da membri della famosa società nazionale che avevamo saltato in un certo modo. Reparti militari al comando di Garibaldi, elette assemblee che votarono per l'annessione al Regno di Sardegna. Cavour, tornato al governo, ottenne da Napo III l'impegno ad non ostacolare le annessioni, anche se davano un po' fastidio alla Francia, perché la Francia la Francia non gradisce un'Italia unita perché diventa una concorrente in Mediterraneo. Potete segnarlo questo. È tutta storia. Allora, in precedente, appunto, in cambio di Nizza è Savoia, alle quali aveva rinunciato molto cavallariscamente e onorevolmente Napoleone, perché dice io non ho rispettato il patto e quindi non voglio, non posso avere Savoia-Nizza. E invece Cavour dice tieni Savoia-Nizza, però permettici di tenere tutti gli altri stati, quelli che vedete in giallo nella cartina a sinistra. Ci furono i plebisciti e tanti insoluti. Allora, poi in subrezione al sud, come abbiamo visto nel filmato, con Crispi e Pilo, due patrioti di edema ziniane, organizzano l'indipendenza del sud e chiedono l'intervento di Garibaldi. Garibaldi salpò la volta della Sicilia dallo scoglio di Quarto con circa mille volontari. L'ospedizione dei mille salpò con i due piroscapi, Piemonte e Lombardo, rubati alla società di navigazione Rubattino, che guarda caso era una società in parte dello Stato piemontese. Inizia così la spedizione dei mille, volontari con la celebre camicia rossa, intellettuali, studenti, artigiani, operai, da Veneto, Lombardia, molti bresciani, bergamaschi, Liguri, eccetera, eccetera. Cavour, preoccupato per le possibili conseguenze internazionali, finse di ostacolarla per non allarmare i francesi. Allora, quindi parte questa spedizione e non dice che prima di sbarcare fecero sosta a Talamone, quindi aggiungetelo voi, sosta, girate pagina, 398, sopra il paragrafo scrivete sosta a Talamone, dove fregarono le armi necessarie, fregarono, fra virgolette, perché ovviamente anche lì erano d'accordo. Protetto a distanza da navi inglesi, Anvedio, che ostacolarono il tiro dei cannoni borbonici, l'Inghilterra era favorevole all'unificazione dell'Italia, aggiungete, per fare un dispetto alla Francia, Francia, il piccolo esercito di Garibaldi sbarcò a Marsala nei pressi di Trapani, Ciapani, Ciapani, volontari, mille nuovi volontari, sconfissero i borboni a Calatafimi, poi si impossessavano in tutta la Sicilia, la dittatura provvisoria in nome di, promise, interessante, la distribuzione delle terre, e questo era il motivo per cui tutti erano d'accordo, viva Garibaldi, viva Garibaldi, allora che cosa non hanno detto? Vittorie, dovute alla lentezza dei comandi borbonici, dei generali borbonici, forse pure corrotti. Lo scrivo anch'io perché per il futuro potrebbe essermi utile. Allora, i contadini siciliani videro nell'impresa di Garibaldi l'occasione di porre fine alla loro miseria e fare giustizia dei soprusi secolari subiti dai latifondisti. In alcune località salirono le case dei notabili, cioè delle persone importanti, li uccisero e occuparono le terre. Le rivolte erano un elemento di disordine e illegalità che rischiava di compromettere l'obiettivo principale di Garibaldi, cioè abbattere lo stato borbonico e completare l'unità d'Italia. Per questo Garibaldi non distribuì le terre e represse le rivolte. L'episodio più drammatico accade a Bronte, provincia di Catania, dove fu applicata la legge marziale con fucilazioni da parte di Nino Bixio, importante luogotenente di Garibaldi. Avete scritto Nino Bixio? Bravi. Sbarcò in Calabria, conquistoreggio, proseguì verso nord, arrivò a Napoli e questo era il crollo, mentre Francesco II ripara nella fortezza di Gaeta. Situazione assai complessa, molto forti i repubblicani premevano su Garibaldi perché proclamasse la Repubblica e proseguisse fino a Roma. Cavour era allarmato e quindi bisogna intervenire. Cos'è che non ha detto? Ma dai, non ha parlato della battaglia del Volturno? Ok, aggiungete sotto. Ok, i borbonici definitivamente sconfitti al Volturno, anche se quasi stavano per vincere. Scritto? Sconfitti al Volturno. Cavour fece una serie di scelte che permise di rovesciare proprio a favore la situazione. Dopo aver ottenuto l'assenso di Gran Bretagna e Francia, in realtà qui non dice che Napoleone aveva detto a Cavour di fermare di fermare Garibaldi. Ok? Napoleone III aveva detto ferma Garibaldi e Cavour lo ferma appunto attraversando i territori del Papa. Cosa stai facendo? Perché mi invadi? Come faccio? Mica posso mandarli per posta i soldati. E quindi l'invio nell'Italia centrale è un corpo di spedizione che invase lo Stato Pontificio e le sconfisse a Castelfidardo. Marche e le Marche dove si costruiscono strumenti musicali. Occupò le Marche e l'Umbria con i soliti plebisciti appunto furono per l'annessione. Nonostante le pressioni Garibaldi non volle spingersi a un conflitto con il re e scelse di restare leale a Vittorio Emanuele. Lo storico incontro di Teano Garibaldi consegnò all'Italia ben visto nel filmato tra ottobre e novembre a Marche Umbria e Mezzogiorno votarono la maggioranza l'annessione al Regno di Sardegna. Il 17 marzo questo dovete saperlo bene 17 marzo 1861 il Parlamento Nazionale acclamò Vittorio Emanuele secondo re d'Italia. La capitale restò a Torino e lo Statuto Albertino divenne la Costituzione del nuovo Regno. Interessante quel secondo. Segnatevelo ricordatevelo se fosse stata una forma di unificazione doveva chiamarsi Vittorio Emanuele primo re d'Italia e invece mantiene il numero 2 perché era il secondo re che si chiamava Vittorio Emanuele. Ok? Allora tutto a posto? No manco per niente perché subito dopo muore Cavour sono andato a controllare la data è veramente particolare Cavour muore il 6 6 61 6 giugno 61 6 6 6 1 Curioso, eh? Bene, figlioli io direi di aver finito non credo di avere altro spero di non essermi dimenticato niente studiate divertitevi che ne so insomma studiate divertitevi divertitevi studiando o studiate divertendovi no, no non si può fare studiare divertendosi ci si può divertire studiando quello sì quello sì è divertente studiare vero? vero? dov'è? dov'è il stop? eccolo qua ciao